del Ministero del Tesoro per mezzo della Fondazione e della Consum abbia posto in essere operazioni sui derivati che possano produrre nella peggiore delle ipotesi una perdita di 32 miliardi pari al 2% del PIL. Allora io dico, ma se viviamo in una società in cui ci sono i pensionati, e non è populismo questa, è una realtà dei fatti, ma lasciatemelo dire perché non posso fare a meno di dirlo, in cui gli si obbliga ad aprire per la tracciabilità un conto presso le poste o presso la banca perché hanno una pensione che sorpassano i 500 euro, anche da 501 euro perché a dicembre la tredicesima che viene erogata per il doppio ricevono mille e più qualche euro e quindi vanno oltre la soglia dei 999 euro e sono obbligati ad aprirlo per la tracciabilità, qui si consente per anni delle istituzioni come una banca di tenere nel cassetto, di non far esplicitare addirittura una potenziale perdita di 32 miliardi di euro, cioè qualche cosa non funziona o si sta chiedendo troppo ai pensionati che guadagnano più di 500 euro al mese di aprire il conto oppure lì qualcuno ha avuto non solo gli occhi chiusi ma anche la bocca, le orecchie e un pochino tutto quanto chiuso, lasciatemelo dire perché questa è la sensazione, va anche detto a nord della cronaca che in questo momento, e questo è giusto dirlo, che i correntisti, cioè coloro i quali hanno il conto corrente presso il Monte dei Paschi e dei Siena non corrono assolutamente nessun tipo di pericolo per due motivi, primo perché sono convinto che il Monte dei Paschi ha le risorse per poter risolvere il tutto o perlomeno ce l'auguriamo, nel caso in cui questo non fosse possibile vi ricordo che l'Italia ha un'istituzione ottima, meravigliosa che si chiama Fondo Interbancario Tutela Depositi che ci pone un po' all'avanguardia negli ordinamenti mondiali per quanto riguarda la tutela dei depositi perché subentra nel caso in cui l'istituto, la banca non riesce più a onorare gli impegni nei confronti dei propri correntisti dei depositi per un importo abbastanza alto, anzi altissimo e credo che possa tranquillamente coprire tutte le esigenze perlomeno dalla stragrande maggioranza degli italiani per 102 mila euro, non erano i famosi vecchi 200 milioni di lire che convertiti in euro diventano 102 mila euro, credo che la stragrandissima maggioranza degli italiani non ha la fortuna di avere importi superiori sul proprio conto corrente quindi deve stare assolutamente tranquillo perché è tutelato nel caso in cui una banca generica, non sto parlando certo del Monte dei Paschi, abbia dei problemi nel poter rimborsare i depositi, quindi da questo punto di vista i cittadini possono essere perfettamente tranquilli, coloro i quali naturalmente hanno un rapporto diretto con il Monte dei Paschi. Chi invece non deve essere molto tranquillo, oltre agli amministratori perché a questo punto è necessario, me lo aspico da cittadini italiani, che la magistratura faccia prontamente chiarizza su quello che è avvenuto e se ci sono delle responsabilità di individuare immediatamente i responsabili e veramente buttare le chiavi. Anche qui non voglio fare il solito populismo, abbiamo visto ieri le scene di Fabrizio Corona, che insomma è un guappo, io lo considero un guappo, uno scaramouche, ma insomma più di ricattuccio delle foto, delle cose, insomma sono stupidaggini, sono cose e abbiamo visto che rischia, anzi rischia, va in galera anche per un certo numero di anni. Mi auguro che con lo stesso metro, se ci sono dei responsabili, vengano messi in galera, a questo punto credo che le chiavi veramente debbono essere buttate, se viene utilizzato lo stesso tempo, se tanto mi da tanto, questo è ovvio. Per tornare al discorso di prima, io dico che è vero che bisogna trovare le responsabilità, bisogna anche verificare se qualcuno gli aveva detto di fare questa, perché le responsabilità sono sicuramente a molti livelli, abbiamo letto che il direttore generale aveva, il direttore finanziario aveva le deleghe per poter fare, verifichiamo, vediamo se era nelle sue possibilità. Una cosa è certa, è che se l'esposizione massima a cui potrebbe andare incontro il buco che si crea è di 32 miliardi, io ho fatto un rapido calcolo, costerebbe al contribuente italiano dal bambino che è nato in questo momento, mentre stiamo parlando, fino al centenario, più di 500 euro a persona. e francamente non voglio andare oltre. È chiaro che quando si dice, è una speculazione, visto il clima elettorale, quando si dice, ah Limo è andata a finire, no, chiaramente Limo non è che è andata a finire lì, perché non c'è una corrispondenza diretta, chiaramente, fra quello che entra e quello che esce, è evidente. Però va da sé, va da sé, che se in futuro anche un solo centesimo di denaro pubblico va a finire per parare alcuni danni compiuti per la responsabilità di qualcuno di una banca, e allora, cari signori, scusate se mi permetto di dirlo, ma insomma, ogni tanto Sgarbi lo dice, lo dico pure io, tranquillamente, allora mi incazzo veramente forte. Scusatemi, ma non ho altre parole per poter definire, non è sicuramente un termine, vedo dall'altra parte del vetro che c'è Matteo che mi sta dicendo finalmente, l'hai detto, va bene. Ma se un solo centesimo dei soldi che noi abbiamo dato, provenienti da una miriade di tassazione eccetera, va a finire nelle casse del Monte dei Paschi, mi dispiace, io da cittadino veramente, e ve lo ripeto, mi incazzo come una bestia, perché mi rendo perfettamente conto che ci siano dei problemi, ma cerchiamo che questi problemi se li risolvano direttamente loro. E chi soprattutto ha fatto degli errori, mi dispiace, ma deve essere preso, messo in galera, va bene, e deve pagare nella maniera più assoluta lo sbaglio che ha fatto. Su questo, scusate, l'aria è cambiata, mi sento tranquillamente di dirlo, mi sento meglio nell'averlo detto, vi dico sinceramente, ma situazioni in cui lo Stato subentra per parare i danni non li voglio più vedere. Mi dispiace, abbiamo dato. E con questo spero che fra sabato e domenica ci sia qualche chiarimento. E ripeto, non deve essere utilizzato a livello politico, però se ci sono delle responsabilità emergano. Vediamo chi è che è stato a consigliare nel fare queste operazioni con la Banca d'Affari internazionale giapponese Nomura. Andiamo a vedere chi sono i consulenti che hanno dato il via libera, che hanno consigliato nel fare questa operazione e dopodiché si capirà se ci sono delle responsabilità. E se ci sono, mi dispiace, devono veramente questa volta pagare, anche perché sia di remora nei confronti di altre situazioni in modo tale che non se ne verificano più. E' chiaro che se non produce nessun tipo di effetti, nessun tipo di condanna da parte di nessuno, se ci sono delle responsabilità, ma credo che ce ne siano, vi dico sinceramente, dopo alla fine la gente ci prende gusto a farla. D'altronde mi rendo anche conto che dall'altra parte dell'oceano, lo stesso Obama, quando c'è stata la necessità di fare alcuni salvataggi, non sono stati fatti, non sono stati fatti, non sono stati lasciati al proprio destino, sempre sulla regola che quando si guadagnava i soldi andavano nazionista, quando invece si perdeva i soldi e vanno a finire nel conto della comunità. Mi dispiace, abbiamo dato la situazione economica e quella che è, se qui qualcuno ha sbagliato, ha da pagare. E su questo vi auguro buon sabato e buona domenica e speriamo di avere notizie migliori. Nel frattempo, scusatemi se ve lo ripeto, sono incazzato nero.